Gran festa in piazza del plebiscito per accogliere il nuovo anno, con un concerto in cui si esibiranno tra gli altri i fratelli Bennato, Teresa De Sio e Noemi. A mezzanotte è il tradizionale brindisi col sindaco. Alle due la festa si sposta a Castel dell'Ovo con lo spettacolo dei fuochi d'artificio che sarà trasmesso in diretta su Rai 2. Per tutta la notte la Rotonda Diaz si trasformerà in discoteca. Al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare nel pomeriggio del 1 gennaio torna il concerto di Capodanno della nuova orchestra Scarlatti, con un programma musicale un po' viennese e un po' italiano, mentre il 4 gennaio alle 20.30 ci sarà il concerto dell'Epifania con la cantante portoghese Lura che renderà omaggio a Cesaria Evora. Per il Capodanno sarà attivato uno speciale dispositivo di limitazione del traffico automobilistico, pensato per godere il più possibile la città a piedi. In particolare durante la notte sarà pedonale il lungomare di via Partenope e di via Nazario Sauro. La linea 1 della metro, la funicolare centrale e quella di Chiaia funzioneranno per tutta la notte, mentre gli autobus termineranno le corse alle ore 20 del 31 dicembre per riprendere alle 6 del mattino del giorno dopo. Vale più che mai l'invito a non bere alcolici per chi si mette alla guida. Il dettaglio degli eventi, dei mezzi di trasporto pubblico e delle limitazioni